Ciao ragazze, allora mi vedete un po' una schifezza ma questo è quello che è la luce di oggi e con una protuberanza in testa perché mi sono legate i capelli almeno peggio e siamo qui per fare il tag share the love, share the love, condividi l'amore e avevo visto questo tag fatto da alcune ragazze americane e ho pensato carino, potremmo fare anche noi poi ho pensato tutti i casini che avevamo noi italiane tra di noi e pensare a qualcuna che si potrebbe offendere se non viene citata e scatenare l'inferno mi ha fatto passare la voglia però qualcuno ha pensato il contrario di me, ovvero che in mezzo a tutti questi casini e robe varie una cosa del genere potrebbe quietare un po' gli animi ho visto che comunque le cose stanno andando molto bene, questo progetto funziona bene ed è molto carino sono stata taggata e ringrazio tutte perché tutte le volte che mi sento nominare mi viene un brivido oddio mi nominano e poi un po' impressione ma insomma direi di cominciare perché la lista è lunga di persone che love quindi cominciamo rigorosamente in ordine alfabetico la prima si chiama Advi Tribe che è una ragazza che lavora per uno studio fotografico che si occupa di servizi fotografici per matrimoni e quindi è una persona molto professionale, molto chiara e coincisa nelle sue spiegazioni e ha dei bellissimi tutorial proprio sulle basi del trucco, ovvero proprio la base del trucco, rossetto comunque cose molto rapide, coincise e professionali Alice Like Audrey fantastica, la seguo veramente dall'inizio da quando diceva ma sì ho un canale di make up è una cosa da niente, poi è arrivata veramente alla vetta e sono contenta per lei perché se lo merita veramente ed è una bomba cioè quando guardi un suo tutorial non puoi non sorridere non puoi non metterti allegria e soprattutto anche molto brava cosa ovviamente importante Perlandina anche lei la seguo dall'inizio la conosco da quando non faceva ancora tutorial l'ho conosciuta nel canale di Clio Makeup anche lei molto professionale al suo modo anche se non è il suo lavoro comunque è molto chiara nelle spiegazioni mi piacciono le sue review mi piacciono molto anche i suoi tutorial anche se ne ha pochi fanno di più perché sei brava poi c'è Anchiri bravissima c'è Anchiri è partita un po' da un odio questa iscrizione nel senso che all'inizio diceva ma questa qua oh ma tiratela di meno anche con quella R moscia lì poi ho capito che in verità è veramente non si attira assolutamente proprio zero anzi molto autonica su questo suo essere molto elegante su questa sua R molto nobile quindi mi piace oltre al fatto che è bravissima è assolutamente precisissima nei suoi lavori proprio make up a regola d'arte veramente molto 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 attenta ad ogni singolo particolare di ogni trucco e quindi c'è una stima immensa perché io non sono così precisa come lei ma vorrei esserlo Clio make up mamma guru io la chiamo perché secondo me è la madre di tutte le guru di make up perché è stata la prima perché insomma è la capa è la nostra capa così e non aggiungo altro perché che se può di Cristalina 83 anche lei come berlandina l'ho conosciuta nel form di Clio make up fa delle review molto belle è molto chiara molto coincisa anche lei e e c'è questo accento romano che è irresistibile non c'è niente da fare proprio io gli accenti li adoro tutti adoro quello toscano adoro quello romano mi piacciono tantissimo mi rimango veramente affascinata e mi metto un'allegria quindi e sì insomma Dead Flash Girl Dead Flash Girl per quanto mi riguarda è la vera artista tra noi guru è proprio l'unica non so se è l'unica comunque in queste che cito è l'unica che più dei make up fa proprio delle opere d'arte quando ho inesso i video sono proprio delle combinazioni di colori delle forme delle idee veramente che hanno più a che fare con l'arte secondo me con il make up non voglio dire che non sono trucchi voglio dire che insomma non so come dirlo non è non voglio dire qualcosa di offensivo perché sono trucchi bellissimi però sono molto artistici molto estrosi e quindi adesso stanno benissimo perché ha questo viso particolare poi fa un mestiere particolare che è quello di tatuatrice se non mi sbaglio però insomma non fa cose da portare tutti i giorni però è un pregio perché comunque si vede qualcosa di nuovo bello artistico appunto ice noir allora tutorialist fa più che altro tutorial il make up più che review mi piace per la semplicità con cui fare cose i suoi tutorial sono molto semplici diretti però anche d'effetto sono soprattutto ultimamente ha usato una monta di tutorial in modo che siano molto veloci sono tutorial di 3-4 minuti in cui fa vedere proprio i passaggi principali in un attimo entri proprio nel vivo del trucco e poi mi piace il suo accento il suo accento romagnolo che lei ha un po' questo accento qui c'è un po' l'esce poi non vi voglio fare il verso perché magari si offende però anche lei ha un accento pazzesco poi Georgia April e Georgia April è un po' la tutorial che sento più vicina a me nel senso che parliamo un po' di cose simili ci piace tutte e due moltissimo il make up minerale siamo tutti siamo attenti all'inci e tutte queste cose qua molto chiara molto coincisa lei quando fa una review secondo me uno rimane senza domande cioè lei quando fa una review non ha domande perché lei ha già detto tutto proprio chiaro preciso lineare ordinato perfetto quindi molto brava molto brava sono tutte brave queste che sto nominando ma anche le altre probabilmente me ne sto dimenticando tantissime perché purtroppo non posso citare tutti e non conosco tutti vabbè poi abbiamo Juliette Princess mi sono iscritta da poco da mi sono iscritta da poco a Juliette Princess perché come Senkiri è stato un po' un amore odio che è partito un amore nato dall'odio cioè all'inizio dicevo questa qua quanto se la tira in verità no perché anche lei non se la tira però sono queste persone che appena le vedi ti danno queste idee di tirarsela un po' però in verità anche lei è assolutamente super autoironica questo modo di fare un po' zip come si può dire principesco però alla fine mi piace mi piacciono i suoi tutorial perché anche i suoi tutorial sono abbastanza semplici molti trucchi portabili e belli e cosa volevo dire ah l'amore è nato quando ho visto un video che non ne ha pubblicato sul suo canale non so come l'ho trovato era qualcun altro che ha pubblicato un video in cui c'era lei dove lei faceva il dove lei faceva il verso ma che si chiama natascia natascia abagascia la natascia la quella che ha detto che le italiane fanno schifo ha fatto il video italiane brutte ciccione schifose eccetera eccetera e ne ha fatto un'imitazione che vi giuro mi sono rotolata per terra per tre ore perché era bellissimo vabbè quanto durerà questo video sei anni vabbè niente mi spiace andiamo avanti meriglia 8 meriglia 8 è molto brava oltre a essere simpatica è anche lei come cinchiri molto molto precisa il suo make up cura veramente ogni particolare oltre all'accostamento di colori è molto molto precisa tenta nelle sfumature in tutto per questo mi piace mi piacciono anche le sue review mi piacciono i concorsini che fa mi piace e poi comunque ci siamo conosciute abbiamo scambiato quattro paroline è una persona molto molto affettuosa veramente è carina Miss Strawberry Fields di cui ho già parlato ho già condiviso l'amore per lei in un precedente video è sarda è accento sardo e io quando sento qualcuno con accento sardo non posso che rimanere a ascoltarlo perché mi sento a casa e l'ho già detto quando vedo i video di questa ragazza non mi basta mai cioè non mi annoio mai finisce il video ne voglio vedere subito un altro mi fa morire da ridere è anche lei però chiara è coincisa nelle sue spiegazioni però diciamo che diciamo che le review sue sono belle sono chiare e sono coincise coincise però lei ci mette il valore aggiunto della simpatia cioè che c'è sempre la battutina c'è sempre l'autoeronia c'è sempre lo stramatizzare quindi ha una marcia in più rispetto un po' a tutti quando lei fa un video una review o qualunque cosa sia poi momomos 91 l'unico maschietto di questa linea di questa di questa lista appunto un maschietto che fa tutorial di make up un maschietto che fa tutorial di make up in modo molto molto professionale professionale anche perché anche lui non penso che sia un professionista ma comunque ci mette veramente impegno ci mette impegno e comunque i suoi lavori sono buoni secondo me e e lo apprezzo molto e lo apprezzo e lo apprezzo molto è simpatico carino è piacevole da guardare poi My Vanity Table che anche qui lei la conoscerete quasi tutte è molto brava è molto brava ha questo carattere molto molto pacato è molto chiara molto professionale mi piacciono molto le sue review mi piacciono molto anche i suoi trucchi e mi piacciono molto anche i suoi vlog che fa anche vlog quindi insomma la seguo su tutta la linea mi piace molto e infine 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 ultima ma solo perché inizia con la S quindi alla fine dell'ordine alfabetico sono la vita la mia carissima sono la vita che è anche il mio psicologo personale nonché la mia valvola di sfogo nonché colei su cui riverso tutte le mie frustrazioni personali e mi è stata vicina in tantissimi momenti interribili ed è fantastica una persona fantastica che c'è lei e forse un altro uguale a lei purtroppo ne siamo accorti ma ce ne vorrebbero molte di più di persone come lei ed è la persona più autoironica del mondo cioè nei suoi video c'è proprio da da videre perché è veramente una pasticciona e molto simpatica e e così insomma non mi pare che abbia mai fatto del video non mi ricordo fa tutorial di make up fa dei bei tutorial di make up brava fa di tutti molto belli purtroppo un po' si perde nelle sue divagazioni e quindi un po' è anche un po' il suo bello insomma finito perso la voce per dire tutte queste cose ah no un momento ho dimenticato due persone importantissime make up the light 2009 la conoscete tutti Giuliana molto molto brava poi i suoi tutorial sono molto molto ben fatti seguono bene anche lei ogni tanto ci butta di una battutina per riappropriarsi dell'attenzione quindi si poi fa degli accostamenti di colore fantastici quella è fantastica con la sua voce da guendalina del grande fratello hanno la stessa voce la stessa impostazione mi sembra di vedere lei io adoravo guendalina del grande fratello e adoro anche lei anche se lei forse c'ha un pochino un pochino di cervello in più un pochino un bel po' ma vabbè poi infine questa volta infine veramente vediamo sì le nominate tutte Miss Me388 anche lei anche lei ha fatto tutorial di make up ha fatto review dico ha fatto perché vuole chiudere il suo canale mi dispiace tantissimo perché mi piaceva tantissimo è molto simpatica anche lei è un'altra di quelle che sì è brava fa le cose con serietà e professionalità però ci butta sempre con la battutina che non ci sta mai male e niente non so perché voglio chiudere il canale non so quali sono state le circostanze le circostanze sicuramente sono circostanze serie quindi non le posso dire niente se ha preso questa decisione però sappia che insomma mi dispiace molto francamente molto 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 basta direi che ho finito con la mia lista io spero che nessuno si offenda perché non l'ho nominata però purtroppo se avessi più tempo probabilmente seguirei anche persone ma non se può e niente vi lascio un bacione scusate questo questa qualità video pessima ciao